Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la terza maglia del Manchester United per la stagione 21-22, nella versione player, quella cioè dei calciatori. Come vedete la terza maglia è prevalentemente blu con queste rifiniture geometriche nere. La maglia è ispirata agli anni 90, le rifiniture sulle spalle, le strisce Adidas oppure gli sponsor sono sul giallo. Una maglia bella, nella mia personale classifica questa maglia prende tre stelle. Sicuramente bella? Una maglia da avere, la maglia di Cristiano Ronaldo, ma non una delle mie preferite. Ora vi lascio, ci troviamo alla fine per le misure. Ciao! Nella versione player, come sempre, lo stemma del club, il logo dell'Adidas e anche lo sponsor sono termosaldati, questo per dare un maggior comfort ai calciatori. La versione player usa la tecnologia Heat Ready, molto bello all'interno del fascione giallo, come le rifiniture della maglia. Il collo è a V. Nel collo a V e nelle maniche è presente questa bella lavorazione che arricchisce la maglia. Sia lo sponsor sulla manica che le strisce Adidas sono termosaldate. Il retro della maglia è completamente blu. Qui è facile e si vede benissimo questa lavorazione, questa trama geometrica nera che rende la maglia molto particolare. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete le misure della maglia e potrete vedere la vestibilità. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia L della player version. Come vi dicevo, della player version si consiglia una taglia più grande. E' una taglia più grande. Grazie a tutti.